questa sala oltretutto è una sala laica e da una chissica appena quindi della cultura socialista e cattolica e pienamente espressa per cui si chiamano anche state comunque una cosa vorrei dire adesso e vorrei salutare Nesto Carbonico, mio vecchissimo amico che però rappresenta anche uno dei punti essenziali della segreteria di Matteo Renzi e quindi caro Ernesto benvenuto e se vuoi fare un saluto sei in realtà che ho fatto il saluto va benissimo, grazie a te di essere qua un altro breve saluto da Paolo Cavalieri consigliere istituzionale di Santa Spetta buongiorno a tutti grazie di essere qui anche voi, grazie che è anche organizzato questa iniziativa da essere tutti i relatori io vorrei dire che se siamo qui è perché vogliamo venire al Partito Democratico perché crediamo in questo progetto un progetto che deve parlare del futuro se la sinistra il centro-sinistra in Italia e l'Europa vuole veramente affrontare le sfide che ci aspettano che sono veramente importanti parliamo del reprendimento costituzionale perché riguarda l'Italia ma parliamo anche dell'Unione Europea che praticamente sta passando un brutto momento io credo che noi dobbiamo avere un Partito Democratico una sinistra italiana europea unita e propositiva certo difficoltà non mancano l'abbiamo visto anche nelle ultime elezioni anche se il centro-sinistra può vincere anche la mia vita in questo quartiere è una piccolissima realtà è un panorama nazionale però si può vincere bisogna convincere e per convincere bisogna essere credibili e io credo che se vedremo in campo come partito una classe dirigente preparata aperta al respiro del futuro sicuramente i risultati positivi verranno e il Paese si potrà seguire e ci seguirà se vedremo in campo una classe dirigente che cerca di gestire le cose giorno per giorno senza giornata prospettiva per il futuro credo che le difficoltà aumenteranno e sicuramente al populismo la strada verrà a me perciò sono convinto che tutti i relatori più presenti ma anche tutti insieme saprà reagire e saprà costruire per il futuro una politica che per l'Italia e per l'Europa contribuisca con l'Europa più giusta più democratica e soprattutto più equa equità gli italiani lo chiedono equità e giustizia grazie per il vostro intervento grazie per il vostro intervento grazie 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 grazie